Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi ci troviamo con Evans a giocare a Stumble Evans, che partita facciamo, normale o modificata? Eh, modificato Codice? Oh, in questa mappa mi devi seguire, ti dico il corso, 541, 286, 286, arrivo Perché facciamo tutti i trick? No, no, cioè sì, facciamo i trick Ok, ragazzi, ok, va bene, facciamo i trick Non si credo però che hai vinto contro i player, va bene Ovvio, te la dico, sono 187 culone, sono abbastanza Infatti, sono abbastanza per, infatti Ma da, no, vabbè Eh, perché ho questa mappa? Allora, vediamo il pro Poi Ah, ma so questo trick, è infamello questo trick Dai Sbrigati, sbrigati, vieni da paparino Non è vero Non è vero Non vuoi fare tutto la cosa? Potremmo essere stato appassionato per la vista, eh Non è vero Oh, cosa ti serve? Non lo so Sì, vieni, Fra Arrivo, Fra No, sto cadendo, Fra Non cadere Non cado, eh Sì, ma questo trick, lo so, solo uno di noi si può salvare No, io c'ho modo che possiamo andare tutti e due Qual è il modo? No, lo so già, lo so già, tu vai avanti Oh, no, bro, stai fermo Salta, salta qua Bro, stai fermo, te, provo io, provo io Sto qua No Sì, l'ho visto, sono caduto anch'io là Vabbè, completiamo la mappa Sono caduto Vabbè, non c'è tanto Sto, ma non c'è tanto Ah, ah, ah Tu mi disforzo Vabbè, non c'è tanto Vabbè, non c'è tanto Vabbè, non c'è tanto Vincò io, vincò io Se non scade il tempo Fra qualche secondo Tre Ma io c'ho già di vincere Due Alla rigua Uno Tre Due Uno Oh Non c'è tanto Alla rigua Quindi Non c'è tanto Questo è tanto C'è tanto C'è tanto Ah Ma guarda Infatti Vabbè Ora mettiamo Block Dash E poi facciamo Vedere ai ragazzi Quanto sono fichi I trick Che facciamo io Adesso Block Dash Quindi intendi Che dobbiamo Trajardare Sì Ok Sai vai Allora Allora Tre lamo E Il codice è 8 0 6 8 0 6 7 0 6 Ah 7 0 6 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 16 17 17 18 19 19 20 19 20 21 21 22 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 22 23 23 24 23 25 24 24 25 25 25 2, 5, 4 2, 5, 4 3, 5, 8 Ok, arrivo Madonna che fail ho fatto E potresti non fare i recovery, Madonna? Ma i recovery che ti aiutano a salvarti? Comunque facciamo vedere alla gente come traguardiamo su Block Dash Se noi arriviamo ai 3000 blocchi mi sa che io non sopravvivo Sì, però adesso abbiamo fatto che ci sia sopravvissuta Sì, una volta, sì, però, dai Cioè, appena ho provato a superare quella parte, sì Tra ieri Cosa ho fatto? Sto facendo il world record di salti Ho buggato il gioco, non è vero Sto facendo il world record di salti Ma basta provare a trapassarli Madonna, sono volato in aria Qualifica Qua facciamo il trick No, te lo giuro, non ci sono riuscito perché C'ero io davanti No, non c'erete davanti ma non ho avuto un ottimo tempismo Infatti, io stavo per finire nel laser 3, 7, 3 1, 2, 7 1, 2, 7 Ma Evans, a me non lagga più Perché ho modificato le impostazioni Ho messo le cose molto meno importanti Ho tolto le cose meno importanti per non fare laggare Quindi a me non lagga più Allora, tanto, ragazzi Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Che a 100 iscritti Faremo la prima live di questo canale E tutti voi potete entrare con uno dei più forti nel team Nel team, Pia Intendi nel team Tac Che ho sbagliato a scrivere Tac Vabbè Guardate il nome Ho sbagliato a scrivere Tac Evans Non morire Ehi Non faccio recovery Non faccio recovery Infatti, forse è la maledizione di questi video Beh, abituati Abituati Allora, ho una domanda da fare Ma perché ogni volta che provo a fare i recovery Non ci riesco? No, pessimo tempismo Pessimo tempi No, intanto Evans Non mi fa entrare nel gruppo Anche se non schiaccio Anche se non schiaccio abbandono Non mi fa entrare nel gruppo Codice Ok, ogni volta che provo a fare i recovery Quando sono solo Ci riesco Ma quando facciamo un video Non ci riesco Quindi Cosa significa? Che Che Vi passano maledetti? Sì E tu E tu quando stavamo giocando insieme Riesci a trapassare ogni volta i blocchi Ma ora Ma ora Come io non riesco a fare i recovery Comunque Con le punte Ho fatto un pessimo tempismo Pessimo Praticamente Pessimo Se Ryan Se Ryan mi chiama ora Se Ryan mi chiama ora Mi strappo le gambe Non provare a trapassare i blocchi Sai già che non funzionerà Dai No Cioè Non è giusto Madonna Sono rimasto fermo senza guardare davanti Ma è giusto Infatti È ingiusto Che non ti fa trapassare i blocchi Ci provo io Quasi Quasi Ho spaccato un blocco Con la te No Qua devo fare questo Ero troppo vicino Eh Qua Ce la posso fare Che tempismo Tempismo Eh ma Evanz C'erano quasi C'erano i mille blocchi Non è vero No C'erano I mille blocchi No C'erano i cento blocchi Non i mille Erano i cento blocchi Vabbè Non ci sono Niente Pazienza Codice Cosa Codice Eh Sette Quattro Uno Sette Quattro Uno Poi Due Uno Sette Arrivo Ok però C'è O facciamo Un tempismo Sbagliato O sbagliamo Mannaggia i video Eh Mannaggia i video Infatti E poi A cento mila iscritti No Sì A cento mila iscritti Eeeh Finta meno Un foglio Firmato da noi Firmato Con cinque euro Con cinque Scrivete nei commenti Che volete Ma pagato Pagato da tutti Noi Non da me Pagato da tutti Noi Sì da cinque No da cinquanta euro Io do solo dieci euro Voi Voi Vedi Ah Comunque Una domanda da fare Alleluia Alleluia Hai trapassato Il blocco Bim Alleluia 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 Non ho sbagliato Tempismo Stavo per morire Per colpa Di rasen Sì 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 Grazie.